120 ciclisti che hanno partecipato alla cicloturistica del Monte Feltro, gara non competitiva che ha radunato appassionati dei pedali anche da fuori regione, con lo scopo di valorizzare i territori dell'Alta Umbria, nonché anticipazioni di ciò che avverrà il 12 ottobre 2025, quando si svolgerà la Gran Fondo del Monte Feltro, evento a carattere nazionale che partirà da Gubbio per raggiungere Acqualagna e ritornare sotto i Cinque Colli. La cicloturistica è nata dalla collaborazione tra il Consorzio GAU, Gubbio Alta Umbria e le associazioni ciclistiche Ugubine, Veloclub Gubbio, Bike Cicli Neri, DF Bike e Cubium Bike Adventure. La giornata ha preso avvio al Teatro Romano e si è sviluppata per 55 km tra le colline di Gubbio e di Pietralunga. Diverse le località intermedie toccate, tra cui Mocayana, San Benedetto Vecchio, Nogna, Zangolo, Nervici e Ponte d'Asti. Per gli accompagnatori degli atleti sono state organizzate visite guidate nell'acropoli Ugubina, che hanno permesso loro, nell'attesa dello svolgimento della manifestazione, di conoscere la città, i suoi musei e la sua storia. La manifestazione si è poi conclusa con il pasta party finale e ricchi premi per i partecipanti, con appuntamento rinviato alla Gran Fondo di ottobre 2025. Non importava tanto il risultato come numero, importava comunque capire il senso e partire già pensando al prossimo anno, quindi quello che potrà essere un grosso grosso evento. C'è una stretta collaborazione, quindi diciamo che è la ciliegina sulla torta. Forse è una cosa che mancava in passato, ora riusciamo a collaborare, a condividere idee, progetti per promuovere il nostro territorio, ma non solo. Oggi andremo a toccare il comune di Pietralunga, il prossimo anno è sicuramente un grosso evento e toccheremo diversi, diversi comuni. Grazie a tutti.